Dovremmo sempre batterci e diffondere quelle che sono le problematiche legate al disagio giovanile e uno dei disagi giovanili, naturalmente oltre quello drammatico dello spaccio e dell'assunzione di sostanze stupefacenti, c'è anche quello dei bambini e ragazzi scomparsi. Era il 25 maggio 1979 quando da New York scomparve il piccolo Ethan Paz. Ogni anno il ricordo del bambino rapito a soli sei anni, in questa data si celebra la giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi. Vorrei sottolineare che la Polizia di Stato ha dei metodi e comunque dei richiami come possono essere delle app o il nostro sito, semplicemente il 112 per chiamare le istituzioni, quindi non solo la Polizia di Stato ma tutte le forze di polizia, perché intervengano subito nell'immediatezza dell'evento, perché sappiamo che quando passa del tempo è molto più difficile operare. In questa data la Questura di Arezzo ha organizzato un incontro con gli studenti delle classi prime dell'ITIS Galileo Galilei, ai quali sono stati consegnati un segnalibro e una brochure informativa realizzata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Giornate come queste sono molto importanti perché aiutano i ragazzi a prendere un contatto diretto con coloro che devono essere visti, cioè le istituzioni, non come un nemico ma come un ente che ci protegge e ci aiuta nella tutela di tutti i nostri diritti. Per i minori scomparsi, oltre al numero d'emergenza 112, è disponibile anche il sito gestito dalla Polizia di Stato, it.globalmissingkids.org, si può inoltre contattare la linea europea per i minori scomparsi 116.000. Spero che ad Arezzo non si verifichi, ma facendo un discorso più ampio, ogni qualvolta un ragazzo viene anche importunato, non soltanto, quindi parlo dell'allontanamento da casa, bisogna immediatamente farlo presente alle forze dell'ordine, quindi un'esortazione a chiamare le forze di polizia, in questo caso la Polizia di Stato.